Il primo step di questo lungo programma raccontare per ricordare organizzato dall'Università di Studi di Salerno con la collaborazione del CRAL dell'Università, naturalmente anche Unisound, la web radio dell'Università di Salerno, è un appuntamento consueto, non è la prima volta che l'Ateneo organizza in termini programmatici molto articolati la giornata della memoria ed è un appuntamento che non si conclude oggi naturalmente, ma già ha una proiezione nelle prossime settimane, fino praticamente al mese di aprile. Allora, innanzitutto noi ringraziamo l'ingegnere Paul Schreiner e la professoressa Susanna Glavas, poetessa italo-croata, docente di lingua croata all'orientale di Napoli. Subito dopo questo primo volo d'Angelo ci saranno invece gli interventi a due voci sulla memoria collettiva di Halsbach, che era un sociologo, un filosofo che è stato internato nei campi di concentramento ed è morto nei campi di concentramento a cura del professore Fabrizio Denunzio e della professoressa Bianca Arcangelo, appunto docenti dell'Ateneo Salernitano. Allora, in primo luogo io vorrei ricordare che domani invece ci sarà lo sportello antidiscriminazione, l'altro sterminio, innanzitutto alle 10.30, proiezione del film BENT di San Mattias, alle 12, incontro con Lorenzo Forte, responsabile cultura del Circo l'Arcigay di Salerno, Marcello Di Folco, poi Giampaolo Delia, giornalista del Web Radio dell'Università, e Michele Pirone, segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGL di Salerno. 5 marzo, un altro appuntamento significativo, la memoria oggi, la presentazione del libro 1938-1945 di Industria di Caino, e poi con la partecipazione di Piero Terracina, incontro con Beatrice Benocci sul tema i luoghi non luoghi della memoria e il dibattito. Il 12 marzo, nel teatro, presso il teatro di Ateneo, la memoria del male, Teresin di Silvio Mariano, alle 11.30 invece, proiezione del film La chiave di Sara. Il 26 marzo, sempre presso il teatro di Ateneo, un altro appuntamento significativo in questo ambito, memoria e resistenza nel mondo sportivo, cioè si andranno a tratteggiare delle figure emblematiche dello sport italiano, che furono impegnati nell'ambito resistenziale e quindi di concesto sul terreno dell'assistenza e della lotta sostanziale, della straordinaria obiezione di coscienza, e non erano molti quelli che in quegli anni in Italia facevano obiezioni di coscienza a quello che accadeva, un po' per consapevolezza e un po' per ignoranza. E alle 11.30, il 26 marzo, avremo l'incontro con Andrea Bartri, figlio del mitico ciclista Bartri, e Manuela Letti-Ghezzi, che era un giocatore di calcio. In cui si discuterà anche della deportazione politica fra il 1943 e il 1945 con Giuseppe Valota. Il 2 aprile ci sarà invece il ricordo degli italiani prigionieri nei lager. Hitler, gli italiani civili e anche militari. Ricordiamo che dopo l'8 settembre 1943 circa 600 mila militari italiani furono deportati nei campi di concentramento in Germania o anche in Polonia. E molti vennero i cosiddetti schiavi di Hitler impiegati nelle aziende per sostenere produttivamente lo spozzo bellico della Germania. Gli schiavi di Hitler e l'università incontrano la minuccia gigante, figlio di Vincenzo Gigante, ucciso nella risiera di San Sabba. Il 16 aprile, in questo luogo, la sala buffè del teatro, incontro dibattito sul tema Giovanni Palatucci, il questione giusto. E infine il 30 di aprile, la fine di un incubo. Saluto di Ottavo Di Grazia, ebraista e autore del titolo Shoai e bioetica. Il 30 aprile 45 di Luca Fronsen Cresci, regia di Gaetano Stella. Questo sarà quindi un allestimento teatrale. Infine ci sarà la intitolazione del diale centrale della università alle vittime della Shoai, targa a cura degli studenti universitari. Allora, era una presentazione a volo d'angelo dovuta, anche perché noi abbiamo presentato il complesso delle iniziative insieme con Edoardo Scotti, il professore Odati, lo scorso giovedì presso la sala giunta del comune di Salerno, perché anche il museo dello sbarco ha inteso allestire una serie di iniziative. Allora, sul terreno della promozione, della rappresentazione, abbiamo ritenuto giusto fare massa critica, diciamo così, e mettere insieme università, comune, enti, istituzioni, associazioni e tutto quel che si muove e che intende muoversi in maniera non contingente, ma strategica sul terreno della memoria. In quella occasione, anche a rappresentanza dell'università, c'era il professore Lucrezzi, c'era il professor Panebianco, c'è stata una bella iniziativa. Io allora darei subito, così procediamo subito con i lavori, cederei la parola al professore Lucrezzi, per un saluto e per una considerazione. Grazie Sandro, solo due parole, sono veramente molto lieto, orgoglioso, commosso di essere qui, e questa mi sembra che sia proprio l'anima, ma forse devi sfruttare quella, quella. No, penso fosse il cellulare, credo. Ecco, queste, ecco, questa coralità di intenti, di iniziative, di sentimento è una cosa molto bella. Mi sembra che questo sia proprio il cuore pulsante del nostro Ateneo, quello che ci trovo tutti uniti, senza stare magari a litigare per crediti, posti, soldi, esami, ma soltanto per poter esprimere insieme un nostro sentimento, la nostra voglia di essere una comunità di uomini pensanti, ecco, non persone che pensano soltanto al proprio particolare, ma che vogliono essere collegate fra di loro e che vogliono essere collegati a coloro che hanno vissuto esperienze così tragiche in un passato che non passa, che è sempre vicino a noi. Quindi è poi molto bello che qui ci sono tanti, diciamo, colleghi, c'è la Presidente di tutti i nostri studenti, Marta Manco, che li rappresenta tutti e poi tanti carissimi amici con cui ci sentiamo veramente all'unisono. Stiamo facendo queste cose che è un progetto in progress che direi che resterà per sempre, come ripeto la cosa che disse a quella conferenza stampa, per noi la giornata della memoria c'è ogni giorno, nel senso che noi ogni giorno ci impegniamo ognuno nel nostro ambito per forgiare delle generazioni di cittadini pensanti, ecco, che usino il loro spirito critico e che evitino di seguire dei cattivi pifferai senza sapere dove dimandano, dove sarà poi la destinazione finale di questi tragitti. Quindi per noi coltivare la memoria vuol dire costruire un futuro fondato sull'idea del rispetto, della libertà, della coscienza, della sensibilità, della valorizzazione, della differenza. Quindi è per noi la nostra ragione d'essere. Qui ho detto, lo ripeto, il giorno che noi abiticassimo a questa funzione per me potremmo anche chiudere. A cosa serve una scuola che insegna soltanto leggi, numeri e senza neanche provare a forgiare, ecco, a implementare la nostra coscienza civile. Ciò detto, io non avrei molto altro da dire. abbiamo qui vicino a noi uno dei testimoni che sta, che è un punto di riferimento morale assoluto, diciamo, per l'Italia, per l'Europa di oggi e di domani. Ecco, voglio solo dire una cosa. Io sono nato nel 54, quindi ho avuto una bella vita comoda, molto coccolato, non ho mai sofferto né fame né freddo né violenze particolari, sì, ho avuto qualche piccola amarezza come tutti quanti noi. E poi ho sposato l'interesse per l'ebraismo, per la Shoah, per lo Stato di Israele, come un fatto mio puramente, come dire, culturale. Però, certo, è una cosa che mi convolge umanamente, però naturalmente l'ho fatto i miei studi, le mie conferenze, le ho sempre praticate in ambienti belli, caldi, riscaldati, prendendo un caffè, eccetera. E io mi chiedo che differenza tremenda, proprio impensabile mi divide dal mio carissimo amico Paul Schreiner. Riuscirei io a parlare di queste cose se mi fossi visto sterminato alla famiglia quando avevo dieci anni? Ci riuscirei? Oppure avrei fatto la fine di Primo Levi? Ecco, noi siamo così vicini, veramente io lo sento fratello, mio fratello maggiore, lo sento fratello nel cuore, però vi rendo conto che c'è un muro invisibile, terribile, ecco, che ci divide. E io credo che col nostro cuore, con l'arma, ecco, della nostra parola disarmata, ma con la nostra, diciamo, sincerità di coscienza, noi possiamo e dobbiamo, diciamo, abbattere questo velo, questo muro per far sì che un po' del suo dolore, nei limiti del possibile, riesca a trovare espressione attraverso le nostre parole. Ma di Paul Schreiner non parlo io, do la parola all'amica carissima Susanna Glavash, che molti, tutti già conoscono, è una benemerita della cultura italiana, è professoressa delico croata all'orientale, ma per me è soprattutto una poetessa, perché essere poeta è molto più che essere professore, i professori ce ne sono tanti, di poeti, di poeti veri, ce ne sono di meno. E poi Gianpaolo Delia, vabbè che ringraziamo, farai tu l'intervista, penso a Paul Schreiner. Prego Susanna. Prima di cedere la parola a professoressa, vorrei ricordare naturalmente che uno degli animatori incontri e della programmazione, il nostro collega Enzo Greco, della web radio dell'Università, che non c'è per motivi personali di salute, gli auguriamo di rimettersi presto, diciamo così, e naturalmente tutto quello che viene detto, come al solito, non solo, ringrazio ovviamente i colleghi giornalisti che sono presenti e che rilanceranno l'iniziativa di oggi e quella dei prossimi appuntamenti. Il professore Lucrezia giustamente ha ringraziato Marta Mango, Presidente del Consiglio degli Studenti, Alessandra Gonzales della web radio dell'Università e naturalmente, come io sono solito a dire, tutto quello che verrà detto potrà essere eventualmente usato contro coloro che parlano, perché tutto quello che viene detto sarà invece oggi registrato e ritrasmesso integralmente in versione podcast nella sezione Rewind della radio dell'Ateneo. Professoressa, prego. Buongiorno a tutti, uno speciale saluto al magnifico rettore che ci ha accolti con grande calore nel suo ufficio, insieme ad altri colleghi e naturalmente a Francesco Lucrezia, professor Lucrezia, carissimo amico che ha fatto in modo che noi oggi stessimo qui insieme a voi a parlarvi di una pagina della storia della Shoah che è poco conosciuta e che riguarda la Shoah in Croazia. La Shoah, il termine, la parola Shoah significa catastrofe in ebraico, quindi non si dovrebbe tradurre come olocausto e infatti sempre di meno si usa la parola olocausto diciamo per chi appunto si occupa di queste tematiche. Come nasce la mia conoscenza con Paolo Schreiner? Mi piace raccontarlo perché io sono nativa di Zagabria e anche Paolo Schreiner nativo di Zagabria. Io sono nata nel 59, Paolo Schreiner è nato nel 28. Io sono figlia di una madre che è sopravvissuta alla Shoah perché la mia famiglia materna è famiglia ebraica. Mio padre non era ebreo, dico non era perché non c'è più. Quindi sono ebrea dal lato materno, ebreo è colui che è di madre ebrea. Mia mamma era piccola, era piccola e diciamo Paolo aveva 12 anni e mezzo quando è iniziata la guerra. Zagabria, la capitale croata, lo stato indipendente croato con a capo Ante Pavelic, stato fascista ovviamente, erano stati addestrati Pavelic e i suoi tutti quanti in Italia dalle camicie nere, prendono il potere e quindi Zagabria viene occupata il 10 aprile del 41. Due giorni dopo l'occupazione della città, i nazisti radono al suolo con dei bombardamenti, la sinagoga che era una sinagoga bellissima nel pieno centro di Zagabria. I miei bisnonni erano molto osservanti, andavano in sinagoga e io sentivo raccontare di loro da mia nonna che è una sopravvissuta, la Shoah che è sopravvissuta perché aveva lasciato mia mamma con mia bisnonna dopo che erano stati cacciati fuori di casa, insomma, dove la casa signorile dove subito dopo si è fatto il comando Ustascia dei fascisti croati e poi della Gestapo, sono stati cacciati fuori di casa, insomma, hanno dovuto lasciare tutto e una famiglia di contadini, siccome i miei avevano un emporio dove questi contadini andavano a comprare sale e tutto quello corrente come alimentari, mia bisnonna che gestiva l'attività spesso le dava anche quando non poteva pagare perché non avevano soldi, insomma, diceva va bene non fa niente, un domani ci pagherai, ci pagherete, insomma, non ha importanza, pure se lo segnava ma non faceva pagare e questi in cambio qualche volta portavano del formaggio fresco, del latte e così via. Insomma, voglio raccontare questo perché, perché io, il libro di Schreiner, cioè il suo libro, le sue memorie che lui ha fatto stampare in edizione privata con un tipografo di Novara dove lui vive da ben 54 anni e quindi, cittadino italiano, pieno titolo come lo sono io, siamo entrambi i nativi di Zagabria e abbiamo avuto, diciamo, la mia famiglia ha subito le stesse sorti come la sua. Quindi io non racconterò della mia famiglia, racconterò di lui, ma sono, diciamo, il libro, voglio dire una cosa soltanto per chiudere il pensiero, cioè sia la mia famiglia, mia mamma, mia nonna era con i partigiani e aveva lasciato la sua, mia mamma con la sua nonna, diciamo, da questi contadini che erano stati gli unici a volerli accogliere in casa, gli unici di tutta Zagabria Est. Tutti quanti non hanno voluto saperne, eppure erano, insomma, non avevano, avevano fatto solo del bene, come lo avevano fatto anche gli Schreiner alla popolazione e si sentivano perfettamente assimilati. Quindi un'unica famiglia che ha deciso di esporre la propria vita, perché chi nascondeva un ebreo veniva immediatamente fucilato, no? Sono stati questi contadini che vivevano a immagini di un bosco, che hanno accolto mia mamma con la sua nonna, mentre mia nonna è andata con i partigiani. Due fratelli di questi signori contadini che hanno accolto i miei, sono stati, erano nei partigiani con mia nonna, sono stati fucilati dagli usta sciacruati. La stessa cosa è successa, poi ve lo racconto, nel salvataggio Paolo Schreiner. Perché lo dico? Lo dico perché mentre si raccontano queste, diciamo, vicissitudini dei sopravvissuti, no? Perché per fortuna qualcuno è ancora qui che può raccontare, e il cui racconto in prima persona si possa trasmettere a chi ci ascolta. e lui ha avuto il suo, diciamo, la coscienza, il suo, come da bravo ebreo che gli ha trasmesso i valori che gli sono stati trasmessi in famiglia, il desiderio, la forza di volontà, cioè un grande coraggio, Paolo, ha avuto all'età di 80 anni di stendere, di mettere per iscritto queste sue memorie, appunto con lo stesso messaggio, con lo stesso valore etico che lasciò Mosè ai suoi posteri con la cantica che scrisse prima di morire. Quindi, ora, naturalmente, Paolo vivrà altri 30 anni, minimo, e andrà in giro per tutto il mondo a raccontare le sue esperienze tragiche. Però, ecco, ha voluto e ha avuto questo coraggio, perché ci vuole coraggio, perché molta gente, come mia nonna, c'è sotto il regime comunista che è subentrato dopo la guerra, no? Con Tito. Il regime, i beni che erano stati sequestrati dai fascisti croati, poi sono stati sequestrati dai nazisti, poi sono stati sequestrati dai comunisti. Non li abbiamo mai riavuti, neanche oggi. Neanche oggi. Quindi, sono cose di cui non si sa, perché la Croazia adesso è uno stato democratico, parlamentare, tutto quello. C'è la legge sulla restituzione dei beni agli ebrei, ma molto poche persone hanno potuto avere indietro qualcosa. Nel caso suo, loro erano una famiglia di grandi imprenditori. Quindi, lui nasce nel 1928 in seno a una famiglia, una grandissima, diciamo, una famiglia molto, molto importante, molto importante per tutto il regno jugoslavo, perché avevano, il nonno aveva fondato la prima fabbrica di ceramiche, di mattoni, di tegole, di stufe in ceramica, di laterizi, che era la prima e la più importante, la prima e l'unica grande fabbrica di questo tipo in tutto il regno jugoslavo. E, naturalmente, aveva comprato le azioni da un austriaco al 90% e commerciava moltissimo con tutta Europa. Quindi, era una fabbrica, poi vi faccio vedere io stessa, magari, insomma, possiamo scorrere un attimo, ci sono anche le foto della fabbrica, era una cosa gigantesca per quei tempi. Paul nasce a Zagabria, in casa dei nonni, che avevano una villa bellissima. Infatti, la sua storia, diciamo, se vogliamo fare un paragone, la storia di Paul Schreiner è la storia dei Finzi Contini, cioè, perché la famiglia Schreiner era a Zagabria ciò che i Finzi Contini erano per Ferrara. Quindi, lui nasce in questa villa, nel pieno centro di Zagabria, in casa dei nonni. Il padre si era laureato a quei tempi, il nonno, Armin Schreiner, l'aveva mandato in Slovacchia, perché non c'era una facoltà di questo, diciamo, per specializzarsi in questa materia. Anche il padre ha fatto l'ingegnere ceramico, ha studiato tecnologia ceramica, industria ceramica, in Slovacchia a quei tempi. In Slovacchia si innamorò di una donna e l'apoebrea, ovviamente, Weiss, e se la portò a Zagabria. Quindi, Paul nasce e cresce, i suoi primi anni sono nella casa del nonno, una casa signorile, una casa prestigiosa con il mondo imprenditoriale. Abbiamo scoperto quest'estate, perché mia madre si è ricordata che tra i telegrammi che erano stati inviati per il matrimonio dei miei bisnonni, c'era un telegramma con la firma di Armin Schreiner, Armin Rosa Schreiner, che erano i suoi nonni. Quindi, noi ci siamo conosciuti in Italia, a me il libro di Schreiner, di Paul, è arrivato da Zagabria, perché lui aveva depositato una copia di questo libro qui alla comunità ebraica di Zagabria, no? Perché ne facessero una recensione. Allora, il direttore della rivista ebraica del mensile, Zivko Gruden, mi ha scritto una mail e mi ha chiesto di mettermi in contatto con Paul, perché voleva che io scrivessi, essendo italianista, essendo anche traduttrice di testi italiani in croato e viceversa, di fare io la re, essendo membro della comunità ebraica di Zagabria, di fare io la recensione a questo volume. In questo volume io ho ritrovato la storia della mia famiglia e me ne sono veramente appassionata, cioè nel senso del dovere etico di voler combattere per questa vita, per questo amico, che poi è diventato ovviamente il mio amico, e lo sento come una parte della mia famiglia, ormai siamo così. E anche l'amico Lucrezia è parte della famiglia, anche tutti voi che ci sentite oggi siete con noi. Ecco, quindi è un libro di straordinaria importanza, perché raccoglie le memorie che Paul stesso ha scritto, volendo raccontare ai suoi posteri, cioè a chi lo succederà, a chi verrà dopo di lui, tutti i dettagli di come lui è sopravvissuto. Poi nel libro invece c'è un volume soltanto che è uscito in edizione privata a Novara, quindi non è in commercio purtroppo ancora. ci sono le memorie di Ivor Reich, che è stato cugino di suo padre, cugino di suo padre sopravvissuto al famigerato campo di Asenovac, dove si è fatto ben sette mesi di torture, ma non proprio quelle atrocissime come sono state nell'ultima fase, nella fase finale, e delle cui lui, delle quale lui pure testimonia nel suo scritto che è depositato in tedesco Ayad Vashem, e che Paolo ha fatto tradurre tramite la figlia Micca di questo Ivor Reich, che è emigrato in Israele dopo la guerra in Ivoslavia, ha fatto tradurre in italiano e la è inserita in questo stesso volume. Quindi qui abbiamo in questo volume tre testimonianze, la terza è della cugina di primo grado, di una cugina di primo grado del padre, Ferdo Schreiner, ingegnere come Paolo, che si era laureato in Slovacchia appunto, per ripetere, e quindi questa cugina si chiamava Medea Bruckner, lei era stata salvata dagli italiani, perché era stata mandata in un campo sull'isola di Paag, e comunque è stata salvata con due figli dagli italiani, lei racconta le sue vicissitudini altrettanto dolorose, soprattutto perché dal punto di vista di una donna, di una madre, che si vede strappare il marito da una parte, diciamo perché sull'isola di Paag c'erano due campi, c'era il campo maschile, cioè per gli uomini, campo di lavori forzati, una pietraia mai vista, solo pietre, 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 non davano acqua, non davano niente, dovevano costruire le baracche, insomma morivano dalla sete, dalla fame, dal nutrimento e così via, così via dal sole, bevevano acqua di mare, insomma, e così, e questa donna che sa che il marito sta sulla stessa isola, in un altro campo, dall'altra parte dell'isola, cioè, e lei con due figli piccolissimi, quindi sono memorie anche queste molto preziose, perché raccontano dal dentro il cuore di una madre, cosa si prova quando si è in un campo di concentramento insieme ai due figli indifesi, piccolissimi, uno di questi figli, Bruno Bruckner, è ancora vivo, vive a Ferrara, vero? Ferrara, sì, sì, Bruno Bruckner vive a Ferrara, una volta, non so chi ha detto quando abbiamo parlato a Napoli l'anno scorso, che questo Bruno Bruckner avrebbe avuto anche a che fare con Napoli, ma anni e anni, decenni addietro, per la sua attività, insomma qualcuno mi ha detto questa cosa, che l'ha conosciuto. Quindi io non mi vorrò, non mi dilungherò oltre, ma vi voglio soltanto dare alcuni numeri, dare un quadro storico, dopodiché farò parlare Paolo e non parlerò più. In Croazia ci sono stati due campi di concentramento, sul suolo della sola Croazia, non parliamo dell'ex Yugoslavia, parliamo solo del territorio della Croazia. Prima della seconda guerra mondiale, solo a Zagabria nella capitale croata, vivevano 40.000 ebrei, che erano venuti lì, come i miei Weinberger, così sui Scheiner, erano venuti dall'Austria-Ungheria, cioè con l'impero, perché fiorivano i commerci, si spostavano là dove fiorivano i commerci, dove fioriva l'imprenditoria, il lavoro imprenditoriale. Quindi in soli due campi di concentramento, i più terribili, i più noti, anche se ancora poco noti diciamo a livello mondiale come cifre, come situazione che c'era lì.